Buona giornata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. In apertura c'è un blitz a livello nazionale da parte della Polizia di Stato e della Polizia Postale per un gruppo Novax che stava agendo su Telegram denominato I Guerrieri e che progettava di provocare disordini nel corso del raduno Novax in programma nel fine settimana a Roma oltre che in altre occasioni. Il blitz è scatato all'alba con una serie di perquisizioni in diverse città, 8 a Milano di cui 5 donne e 3 uomini, altre a Bergamo, Roma, Venezia, Padova e Reggio Emilia nei confronti di alcuni appartenenti ai movimenti contro il vaccino Covid. Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano, sono state condotte dalla Digos e dalla Postale. Oltre alle abitazioni degli indagati, i controlli hanno riguardato i PC, i cellulari, i tablet e gli account social. In particolare a Milano la Polizia, al termine di un'attività investigativa, ha dato esecuzione a 8 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti italiani indagati per istigazione a delinquere aggravata. Gli indagati figuravano membri gruppi di Telegram denominato I Guerrieri nel quale venivano progettate azioni violente da realizzare anche con l'uso di armi ed esplosivi fai-da-te in occasione di queste manifestazioni, in programma proprio l'11 e il 12 settembre prossimi. Dall'analisi dei messaggi pubblicati sulla chat dei guerrieri emersi che gli indagati, uno dei quali titolare di Porto d'Arma e già noto alle Forze dell'Ordine per la sua vicinanza al separatismo veneto, si proponevano di partecipare in massa la manifestazione di protesta in programma nella capitale. Poi inoltre alcuni membri stavano organizzando una riunione preparatoria in vista dell'appuntamento romano e cercavano di approvvigionarsi di armi bianche da utilizzare in quell'occasione. Veniamo alla situazione delle vaccinazioni, si va verso la terza dose ad immunodepressi, poi gli anziani e i sanitari, le regioni pronte a partire, il governatore del Veneto Zaia spiega a chi non è vaccinato, si sbrighi. Via alla somministrazione della terza dose del vaccino anti-covid da fine settembre agli immunodepressi, poi entro fine anno, probabilmente dicembre, agli anziani over 80 e all'inizio del prossimo anno, tra gennaio e febbraio, agli operatori sanitari. E' questo quanto si apprende da fonti di governo il timing previsto per la somministrazione della terza dose. Dall'AIFA è già arrivato al chiaro orientamento di procedere partendo proprio dai più fragili, una scelta peraltro già condivisa anche in Spagna. Ma la terza dose è già una realtà avviata in diversi paesi a partire da Israele. L'Agenzia Italiana del Farmaco sta scrivendo il parere che guiderà questa nuova fase della campagna vaccinale, che si accavallerà a quella ancora non conclusa per il raggiungimento dell'immunità di gregge, e le regioni cominciano a organizzarsi. Un nuovo studio della Yale School of Medicine ha cercato di individuare i pazienti a più alto rischio di infezioni COVID breakthrough, ossia che avvengono in persone già vaccinate. Si tratta di casi estremamente rari, specifica il rapporto pubblicato sulla rivista Launch of the Infection Disease. Ma tra questi, la maggior parte delle infezioni ripetute più gravi sono apparsi in anziani di età media 80,5 anni che presentano altri fattori di rischio, quali obesità o diabete. A proposito di vaccinazioni, andiamo a vedere i numeri relativi alla somministrazione a livello nazionale dal portale del Ministero, che ci aggiorna con i dati riferiti alle ultime ore, con la quota degli 80 milioni di vaccini, che è stata superata con una immunizzazione degli italiani pari a 39.288.000, una percentuale che, appunto, per quanto riguarda la popolazione over 12, ha superato il 72%. In Friuli, Venezia, Giulia, il dato relativo all'utilizzo delle dosi è di 1.567.000, l'85,8% di quelle a disposizione. I dati riferiti invece al contagio nel nostro Paese, nelle ultime 24 ore, sono 5.923 i nuovi positivi, 69 le vittime, 131.581 gli attualmente positivi nel nostro Paese. In Friuli, Venezia, Giulia, ieri si è raggiunto un nuovo picco, 240 i nuovi contagi, una cifra che non si raggiungeva dal mese di aprile dello scorso anno. Se possiamo avere la tabella per quanto riguarda il Friuli, Venezia, Giulia. Eccoci qua, sono 9.509 tamponi effettuati con un rapporto del contagio del 2,5%. Ieri si è registrata anche una vittima, sono scese a 12 le terapie intensive, sono salite di due unità, sono salite di due unità i ricoveri negli altri reparti, le persone in isolamento domiciliare sono 1.388. Andiamo a parlare della riforma del trasporto pubblico locale, con la qualità del servizio, la sostenibilità, l'efficacia dell'organizzazione, e il finanziamento sono state fissate come aree di intervento da parte del Governo. Qualità del servizio, sostenibilità, efficacia organizzazione, finanziamento. La riforma del trasporto pubblico locale passerà da queste aree di intervento, molteplici gli obiettivi di sviluppo individuati dalla Commissione Mattarella e contenuti in un documento inviato alle commissioni competenti di Camera e Senato dal Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili Sostenibili e Enrico Giovannini. Le proposte elaborate per riformare il settore spaziano dal potenziamento e rafforzamento dei mobility manager, all'incremento quantitativo e qualitativo dei servizi di trasporto pubblico locale, dallo sviluppo delle infrastrutture e dei parchi mezzi di settore, al rinnovo e potenziamento dei mezzi. E al momento non c'è l'arrivo dell'obbligo del Green Pass su autobus e metropolitane. Sul piano organizzativo non sarebbe gestibile, ha detto il Ministro. La strada che si sta seguendo è invece quella di usare una serie di strumenti. Al momento quindi sono diverse le opzioni percorribili, potenziamento dei servizi, sfasamento degli orari, aumento dei controlli a terra per ridurre l'affollamento prima di salire sui mezzi. Misure temporanee in attesa della riforma generale, le cui proposte si concentrano anche sulla regolazione del servizio, sui modelli di affidamento, su concorrenza e nuove forme di mobilità. Andiamo a Parigi dove si è aperto nella nuova aula bunker costruita ad hoc a Palazzo di Giustizia il maxiprocesso contro gli autori della strage terroristica del 13 novembre 2015 allo Stade de France, al Bataclan e davanti al Bistro Parigino. Presenti 14 imputati, tra cui l'unico dei 10 kamikaze del comando che è sopravvissuto. Sei anni dopo, Salah Abdeslam, unico superstite dei commando kamikaze che insanguinarono Parigi il 13 novembre 2015, ha ritrovato la parola. Finora muto nel suo isolamento dal carcere di massima sicurezza, il franco marocchino è stato protagonista fin dal primo istante di quello che i francesi hanno già definito il processo del secolo. Ha provocato i giudici, poi ha sfidato la sopportazione delle vittime protestando per presunti maltrattamenti. La tensione è stata subito alta nell'aula bunker costruita per questo processo che durerà nove mesi e che vedrà alternarsi imputati, superstiti, familiari delle vittime, inquirenti e testimoni. All'ingresso, arrivato con un corteo blindatissimo, Abdeslam, 31 anni, ha tirato subito gli sguardi di tutti. Gli altri co-imputati erano vestiti con camice blu, lui in t-shirt nera, barba folta e nera che spuntava abbondantemente dalla mascherina anti-covid e dello stesso colore, capelli pettinati all'indietro con il gel. Quando il presidente del tribunale, Jean-Louis Perrier, per primo stava per prendere la parola nella sala Grand-Proset, Salah lo ha preceduto. Ci tengo innanzitutto, ha proclamato il terrorista abbassandosi la mascherina, a testimoniare che Allah è l'unico dio e che Maometto è il suo messaggero. Rientriamo in regione con la cronaca. Un incidente stradale si è verificato nella notte a l'1.45 in territorio comunale di Maniago lungo l'arteria 251 per la viabilità che porta a Vaillont. Quattro giovani tra i 17 e i 20 anni di Roveredempiano e Pordenone che stavano viaggiando tutti su un'auto sono finiti fuoristrada all'altezza di una curva dopo essersi schiantati contro il guardrail. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, assieme ai vigili del fuoco, del distaccamento di Maniago. In colume il conducente della vettura, un 19enne, ferita invece una ragazza di 17 anni che ha riportato lesioni comunque non gravide, è stata trasportata in ospedale a Pordenone con l'ambulanza. Una persona invece è stata investita ieri sera in via Roma a Manzano, travolta da una vettura condotta da una donna di 42 anni di Cividale. Il pedone, un 63enne della zona, è stato trasportato in ospedale a Udine per accertamenti. A proposito di Udine, confinate con via Stiria, c'è via Baviera in cui sono stati avviati i lavori di riasfaltatura. Della via si accede anche nell'area dello scalo, dato in concessione al comune Alcosef. Lì, come ha spiegato nel sopraluogo, il vice sindaco Loris Michelini continuano i lavori così come abbiamo voluto fare il punto sulle opere di intervento in via Grazzano. Il servizio è di Monica Nardini. In via Grazzano la situazione è questa, siamo nell'ultimo tratto, gli ultimi 30 metri finali, praticamente adesso hanno tolto il porfido, hanno già fatto il sottostrato cementizio, stanno rimettendo i cubetti sopra lo stato cementizio e dopo doveva essere riposizionata la resina, quindi una settimana per completare il lavoro e una settimana per asciugare la resina, diciamo 15 giorni più o meno, se il tempo è buono, dovrebbe essere riaperta la strada completamente perché ovviamente va collaudata per intero e riaperta interamente. Piazzale della stazione? Piazzale della stazione, siamo già alla terza fase, le fasi erano tre, siamo alla terza fase, ovviamente mancano alcune situazioni, per esempio il semaforo, lì diventerà un unico passaggio pedonale, il semaforo praticamente verrà messo più avanti perché le strisce e poi comunque i disegni vengono collocati dopo, l'asfalto verrà fatto, lo stanno facendo in parte, in parte deve essere adesso completato con la terza fase, e è venuto fuori un problema poco distante di lì sulla fognatura esistente, che ha avuto dei cedimenti, un po' più avanti però del tratto di lavoro che ci ha impedito alcune cose, ma comunque stiamo risolvendo e per quanto riguarda la fine lavori dovremmo essere verso il 20 del mese. Eudine oggi è pronta a vedere aprirsi la Kermesse enogastronomica per eccellenza, a Friuli d'Occa alle 17.30, il taglio del nastro ufficiale, madrina, il testimonial dell'evento saranno gli olimpionici, Mara Navarria e Jonathan Milan, ad aprire e a presentare l'evento, Marina Presello, giornalista di Sky. Con Monica Nardini siamo andati stamattina a vedere come si stanno allestendo le piazze, le strade della città, allora andiamo a salutare la nostra collega in esterno, buongiorno Monica. Buongiorno David, buongiorno ai nostri telespettatori, fervono gli ultimi preparativi per la 27esima edizione di Friuli d'Occa, che sarà inaugurata nel pomeriggio alle 17.30 in Piazza della Libertà, in presenza delle principali autorità e con due testimoniali campioni olimpici, Mara Navarria e Jonathan Milan. Come detto, si tratta di una manifestazione che durerà quattro giorni fino a domenica, ricchi di tipicità gastronomiche, anche eventi culturali, laboratori, anche artigianali dedicati a grandi e piccini, ma non sono veramente tante le iniziative. Una riguarderà anche la Fiesta de Patria del Friuli, che sarà celebrata domenica mattina e che è stata rimandata ad aprile proprio a causa della situazione dell'epidemia. Come detto, vedete, le vie del centro saranno diverse le vie coinvolte, le principali anche piazze in cui sarà possibile degustare prodotti, ovviamente vedere delle bancherelle con prodotti tipici. Ricordiamo che gli standere saranno aperti fino a luna di notte, domani e sabato, mentre nella serata di oggi e anche di domenica, stando all'ordinanza firmata dal sindaco Fontanini, resteranno aperti fino a mezzanotte. Ricordiamo che i luoghi della festa per la parte no gastronomica principali saranno, come detto, oltre a Piazza Duomo, anche Piazza 20 Settembre, Largo Spedale Vecchio, Via Quileia, il Piazzale del Castello, Piazza Venerio, Piazza San Cristofolo e Piazza Matteotti, però anche spazio, come detto, all'artigianato in Via Vittorio Veneto e anche agli incontri a tema sotto la logia del Lionello, ma anche in Corte Morpurgo, in Piazza Libertà e anche a Palazzo Mantica. È importante, ovviamente, il fronte della sicurezza, saranno istituiti dei varchi anche nel rispetto delle norme antiterrorismo, ci saranno dei controlli anche con il Meta Detector e varchi in cui sarà anche richiesto il Green Pass. Si potrà accedere alle manifestazioni, infatti, solo con un Green Pass in forma digitale o cartaceo e Green Pass, che sarà eventualmente controllato anche a campione dalle forze dell'ordine, all'interno, appunto, delle varie aree previste per il pubblico. Ci sarà anche un numero contingentato di persone, una capienza massima e sarà, appunto, utilizzato con contapersone all'accesso dei varchi. Queste le principali novità. Ha un'altra, anche che ci si potrà vaccinare durante la manifestazione contro il Covid. È stata, infatti, istituita una sorta di punto vaccinale in Sala Iacce, con accesso da sotto la loggia del Lionello, in appositi orari tra venerdì e domenica. Dunque, queste le principali novità. Noi documenteremo, nel corso della giornata, ovviamente, l'evento, anche l'inaugurazione, il taglio del nastro durante pomeriggio calcio. Dunque, il taglio del nastro che verrà alle 17.30. A voi la linea. Grazie alla nostra Monica Nardini. Noi da Udine ci spostiamo a Gorizia, dove ieri è stata presentata l'edizione 2021 di Gusti di Frontiera, denominata stavolta Gusti Off, per smarcarsi dal tradizionale contesto della Kermessi Zontina, anche perché sono state diverse le novità, le limitazioni in questa fase. Andiamo ad ascoltare le parole dell'assessore comunale Bellan. La manifestazione è molto più piccola, più ristretta rispetto a Gusti di Frontiera. Abbiamo voluto chiamarla apposta Gusti Off, perché l'abbiamo estrapolata da quella che era Gusti di Frontiera. Il sottotitolo è Gorizia Riparte. L'idea di questa manifestazione è nata proprio per voler riportare la gente in città, dare un attimo di festa e far capire che pian pianino stiamo uscendo da questa brutta pandemia. Saranno presenti, oltre a Gorizia e il Friuli e l'Associazione di Gorizia, anche i paesi a noi vicini e anche legati alla Contea, la vecchia Contea. Quindi l'Austria, la Slovenia e la Francia, perché sappiamo che anche i Borboni hanno sempre avuto un ruolo importante nella nostra città. Gli stand nell'area cosiddetta festa, che sarà Piazza Cesare Battisti, Giardini, Piazza Vittoria, Via Roma e Via Crispi, saranno 60, una sessantina, che si affiancheranno tutte le normali altre attività che sono già presenti nella nostra città. Abbiamo voluto identificare delle zone feste all'interno di una zona, tra virgolette, pedonale festa cittadina più ampia, proprio perché in quella zona ci si potrà accedere, come previsto, solo con il Green Pass e quindi con il controllo che verrà fatto sia con dei varchi all'accesso, sia anche sporadicamente all'interno da parte delle forze dell'ordine o da parte di personale incaricato. L'area non sarà delimitata sempre con transenne, ma anche con fettucce, riteniamo che tutti sanno ormai il giusto modo di vivere anche le manifestazioni, gli assembramenti, quindi ricordato più volte di non fare assembramenti, di indossare la mascherina se si è attaccati, di igienizzarsi le mani e di entrare in quelle determinate aree solamente se in possesso del Green Pass. Grande successo ieri sera per lo speciale dedicato da Udinese TV alla mostra del cinema di Venezia con i collegamenti che hanno accompagnato la giornata nel corso dei nostri notiziari e la serata in collegamento dal Lido con tanti protagonisti, tanti ospiti, uno dei quali è stato avvicinato dal nostro Nicolà Angeli, l'attore Somma. Ascoltiamolo. Qui all'hotel Excelsior, oggi il gran giorno di Lupo Bianco, che emozione? Lupo Bianco è stato già visto, c'è stato un premio, Starlight Cinema Award, ha avuto un riconoscimento, il filantropo verciolese a cui si ispira il film che è Carlo Olmo, che io ho interpretato nella pellicola di Tony Gangitano, è un bel prodotto fatto con molta passione da Antonio Chiaramonte per Cinema Set e che racconta appunto la vita di quest'uomo che sicuramente si è dato molto da fare durante il periodo della prima, è stato insignito come cavaliere benemerito da parte del nostro Presidente della Repubblica per aver indirettamente salvato migliaia di persone grazie ai suoi rapporti con la Cina e aver fatto venire in Italia migliaia di copri scarpe, vascherino, tutto quello che è servito nella prima fase che forse speriamo di mettere da parte in cantina ma che dobbiamo purtroppo inevitabilmente ricordare. Certo, a proposito di teatro, quando ti rivedremo in azione a Udine? C'è già un programma di massima? Beh, guarda, per il momento io ripropongo un po' delle cose che ho già fatto, tipo il vecchio Il Mare di Hemingway e poi questo meraviglioso spettacolo che è un omaggio a Dalle Battisti, Lucio incontra Lucio. Ho fatto di recente, come sai, forse uno sguardo dal ponte, è stato portato in Friuli e quindi mi auguro di tornare in una terra che mi è molto cara, il Friuli, Udine e non solo, la mia amata Trieste anche perché è una città che ho frequentato in lungo e largo per tanti anni con le serie televisive e magari, perché no, tornarsi anche con un bel set. Stasera presento anche un corto però qui, non so se sapevi. No, dici tutto. È un corto che racconta la vita di una famiglia veneta molto interessante, la famiglia Caron. Il corto si chiama Caron, Codice d'Angelo, scritto e diretto da Giancarlo Marinelli. Io interpreto il capostipite di questa famiglia che ha creato un impero non soltanto aziendale ma anche familiare con cinque figli e che purtroppo è andato via vent'anni fa e i figli hanno voluto dedicare alla figura del papà questo cortometraggio diretto da Marinelli. Io interpreto la figura di Angelo Caron. Quindi insomma ci sono belle cose per quanto mi riguarda anche la parte professionale c'è anche un film che si chiama Una sconosciuta di Fabrizio Guarducci. Insomma il lavoro c'è, c'è bisogno adesso di ritornare a condividere insieme al pubblico. Mandi, mandi, fronti. Mandi, Sebastiano. È un piacere parlare con noi. Grazie. Dunque queste le parole di Sebastiano Sommo. Anche oggi continuerà il Festival del Cinema a Venezia, ve lo racconteremo nei notiziari. Ora apriamo la pagina sportiva, siamo pronti ad andare live alla Dacia Arena dove ci aspetta Lorenzo Pausa per il consueto primo punto di giornata. Buongiorno. Buongiorno a te Davide, un saluto anche a tutti i nostri telespettatori. Purtroppo le prime notizie, i primi aggiornamenti di questa nuova giornata non sono positive perché è arrivato il risponso sulle condizioni di destini Udoge per il quale l'esito degli accertamenti dopo l'infortunio con la nazionale Under 21 è un'elongazione allo PSOAS che lotterà lontano dal campo almeno per due settimane. Questo significa non soltanto che non parteciperà alla gara contro lo Spezia ma anche agli impegni successivi con il Napoli, quello con la Roma infrasettimanale e probabilmente anche quello successivo con la Fiorentina. Insomma, in un periodo in cui incominciano anche gli impegni un poco più ravvicinati ecco che questo stop impedirà a Udoge di disputare almeno tre se non quattro partite. E tutto questo arriva in un momento in cui Goti era già alle prese con alcuni dubbi relativi al settore esterno nello stilare la formazione ed andare poi ad opporre allo Spezia perché c'è da considerare anche la questione di Nahuel Molina che nella notte tra giovedì e venerdì sarà impegnato ancora con la nazionale argentina nella gara contro la Bolivia valida per la qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar e quindi di fatto sarebbe a disposizione del mister soltanto nella rifinitura del sabato dopo un volo transoceanico e quindi anche per l'esterno argentino diventa molto difficile essere in forze per essere della partita dal primo minuto nella gara che si giocherà al picco di La Spezia e quindi in tutto questo possono andare a profilarsi delle scelte diverse una delle più accreditate è quella di un esordio anticipato diciamo così da parte delle 19enne Brandon Sopì un ragazzo molto giovane che abbiamo imparato a conoscere in queste prime uscite l'abbiamo visto all'opera nell'amichevole contro il Dolomiti i Bellunesi l'abbiamo ascoltato anche nella conferenza di presentazione di un paio di giorni fa ma insomma sembra comunque essere un ragazzo molto più maturo rispetto all'età che dice la carta d'identità e potrebbe essere quindi già questa un'occasione per metterlo alla prova l'altra alternativa invece è di rivedere dopo un po' di tempo sulla fascia sinistra Marvin Ziegler rispostando sulla destra Struger Larsen il danese sta bene, è stato impiegato con moderazione con la nazionale danese nelle tre partite sempre relative alle qualificazioni ai mondiali ha disputato per una sola volta tutti i 90 minuti l'ultimo impegno martedì contro Israele ha giocato soltanto l'ultimo quarto d'ora insomma è pronto per riproporsi dal primo minuto con la squadra di Luca Gotti altri dubbi relativamente alla formazione antispezia riguardano l'attacco dove si valuta se Deulofeu può essere pronto a giocare dal primo minuto o se riproporre lo schema d'attacco diciamo con Pereira alle spalle di Pussetto dubbi che il tecnico scioglierà in questi ultimi allenamenti oggi la squadra si raduna al Bruseschi alle ore 15 Larsen ritorna a disposizione, devono ancora invece recuperare Nando Forestieri e Ilian Estorowski che invece lo sappiamo tornerà a disposizione soltanto per la fine di ottobre ma intanto si allena separatamente sempre sui campi del Bruseschi e questo quindi è l'iter di avvicinamento alla gara contro lo Spezia nella quale l'Udinese ritroverà anche i suoi tifosi al seguito questi dunque gli aggiornamenti dalla Dacia Arena David e la Lina che può tornare a te e anche nelle prossime edizioni ora siamo pronti ad un altro collegamento in esterna siamo pronti tra poco per trasferirci a Milano dove oggi andremo a raccontare la presenza delle imprese frulane al Salone del Mobile uno degli eventi internazionali più seguiti per l'arredo per le novità del sistema casa con Giorgia Bortolossi andremo a dunque a svelare le prime novità e durante il corso della giornata vi porteremo anche in questo caso i nostri microfoni i protagonisti di questo Salone dovrebbe essere pronta la nostra Giorgia che dopo la faticaccia della giornata di ieri al Lido di Venezia si è già preparata per svelarci dunque questo Salone Internazionale del Mobile a Milano buongiorno Giorgia ciao David buongiorno da Milano buongiorno a tutti ieri vi abbiamo raccontato il mondo del cinema oggi ci spostiamo sul mondo dell'arredamento qualcosa di totalmente diverso però c'è un filo comune quello della ripartenza e se ieri alla mostra del cinema l'abbiamo davvero respirata l'aria della ripartenza anche per la presenza di alcune star internazionali insomma ci ha dato un sentore di normalità quello che abbiamo trovato qui a Milano nei primi minuti che siamo arrivati e devo dire sono curiosa di capire se questo sarà confermato è che qui la normalità insomma il Salone del Mobile come quello che conoscevamo ancora non c'è si chiama Super Salone perché è un tentativo di far ripartire i contatti il movimento il settore sicuramente dando un primo occhio all'interno visto delle cose pazzesche stratosferiche eleganti però però ci sono 4 padiglioni praticamente quando di solito ce n'erano almeno 20 forse anche di più ci sono circa 400 espositori ce n'erano oltre 2000 nel Salone ci sono 25 aziende friulane che andremo a salutare a sentire anche la loro opinione negli altri anni ce n'erano 60-70 quindi questo vi dà così il senso di quanto in questo momento per provare a ripartire ti devi ridimensionare è anche vero che comunque abbiamo visto anche tanti stranieri che è una prova importante per quello che sarà poi quello che speriamo sarà il vero Salone ad aprile abbiamo visto nessunissimo problema a livello di accessi di Green Pass abbiamo visto un ordine un'organizzazione pazzeschi però lo potete vedere anche da alcune immagini il movimento che entrare su questi corridoi non era permesso perché venivi inglobato da folla continua dal momento in cui apriva al momento in cui chiudeva la sera e se ti perdevi l'operatore non lo trovavi più questo non lo vediamo più questa sembra più una fiera diciamo così che il Salone del Mobile come lo conoscevamo comunque adesso entriamo ci sono anche Luca Butto e Luca Prezzacco con me che stanno già andando alla ricerca delle novità e cerchiamo di già nella prossima edizione insomma di darvi una conferma se quelle che sono le nostre prime sensazioni sono poi confermate da chi è qui insomma da lunedì per rimettersi in moto nella fiera che manca dal 2019 a più tardi David grazie grazie buon lavoro alla nostra Giorgia Bortolossi l'informazione sull'Inese TV tornerà alle 12 e poi come di consueto alle 16 alle 19 alle 22.30 con il TG Not alle 20.30 in realtà il TG Veneto in prima serata stasera vi proporremo invece a grande richiesta una delle puntate più belle del ciclo 10 anni di noi il format che abbiamo creato per raccontare la storia di Udinese TV con orario ore 21 e con la puntata per rivivere dunque questi eventi ci fermiamo qui vi lasciamo alle previsioni del tempo grazie per averci seguito a più tardi amici di Udinese TV bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebimetro per la giornata di giovedì che come vedete sarà splendida bella giornata di sole in qualche modo l'estate non molla comunque condizioni meteorologiche ancora più estive che autunnali anche in termini di temperature andiamo proprio a vedere nel dettaglio i valori che si toccheranno a Udine e Pordenone massime fino a 27 28 gradi vi ricordo sono valori all'ombra quindi al sole registreremo anche qualche gradi in più ovviamente al primo mattino temperature minime contenute ma siamo in linea con le medie del periodo proprio tra 15 e 18 gradi anche tra Gorizia e Trieste è ben poco da segnalare bella giornata in sole temperature diurne molto molto mite al primo mattino magari una felpina o un giubbino per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi scaricate la etapa di Trebi Meteo